Il ministro per le riforme, Gretano Quagliariello, sentiamo quello che ha detto ieri. Io penso che un governo debba andare avanti fino a che serve al Paese. E credo anche che la battaglia per la legalità in questo Paese e contro anche la persecuzione giudiziaria che ha subito Berlusconi sia una cosa che in questo momento si deve coniugare assolutamente con i bisogni dell'Italia. Se no non sarebbe compresa e rischierebbe di diventare una battaglia minoritaria. Berlusconi non lo merita. Così, Gretano Quagliariello, qualche piccola frazione, frizione all'interno della pattuglia parlamentare, meglio ministeriale, del Popolo della Libertà. I toni scelti da Nunzia De Girolamo, titolare del Ministero dell'Agricoltura, sono diversi da quelli di Quagliariello che abbiamo appena sentito. Allora ascoltiamo De Girolamo. Abbiamo assistito ieri in giunta ad una palese violazione delle regole dei Paesi democratici. I alleati di governo si sono assunti una responsabilità e ne risponderanno di tutte le conseguenze a cospetto del Paese. Condivido l'appello fatto al Presidente Grasso dai senatori del PDL affinché in Senato venga lasciata libertà di scelta a tutti i senatori e che quindi si torni al voto segreto.